Sì, prova, prova, sì, prova. Prova audio, prova, prova, prova. Funziona? Sì, sì, forte e chiaro. Vediamo oggi che dice cero, sereno, poco nuvoloso, nessuna precipitazione, temperature in diminuzione. E quindi saranno moderate, ma il mare è molto mosso. Ma domani è una giornata orribile dal punto di vista meteorologico. Guarda qua. Ancora, maierata, andiamo così. Andiamo a spaccare il culo al porco. Che è mai stai a scippare il culo? Fenomeni particolari, nessuno. Nella provigna di maierata, andiamo a spaccare il culo al porco. Sì, detto tutto. Sì, detto. Sì, buono. È un'altra nazione, macerata. È un'altra. Beato Odorico da Pordenone? Porca malosca. Il Beato Odorico da Pordenone. San Cassiano da Fracchiolla. Sbrogobozio da Mencarone. San Pistrocchio dall'Ancarriano. Tutti i santi della minchia toccano a me. Bastava che avevano, non so, San Giuseppe, San Nicola, San Matteo, San Tilario. No. San Ambordione da Burgognons. Questi cazzi di nomi. Voglio un santo normale. Ma quella è la cri, è la cri, è la cristiana che mi fa, che va a vedere tutti questi santi dal... Eh? Lo spacco quel cazzo di libro, gli do fuoco. È sbagliato. Poi vai nel calendario, Sant'Ugo. E io invece ho letto San Bernard del Fruscuglion de Grandarniac. Ecco, vedi? San Felice. Oh, bello. Santo di oggi, San Felice. No. Invece c'ho Santo Ronzo di Roncobilaccio. Va, va, fanculo. Volevo un santo normale io, non un santo strambalato. Che poi questi santi del libro non li caga nessuno. E appunto... Alla prossima 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 Alla prossima